in quel tempo Gesù disse alla folla tutto ciò che il padre mi dà verrà a me colui che viene a me io non lo cacerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che non perda nulla di quanto egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno questa infatti è la volontà del padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno nel momento in cui chiuderemo gli occhi a questa terra la gente che sarà vicino a noi dirà è morto è morto in realtà è una bugia sono morto per chi mi vede per chi sta lì le mie mani saranno fredde il mio occhio non potrà più vedere ma in realtà la morte non esiste perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro all'infinito di dio noi lo vedremo come si dice paolo a faccia a faccia così come egli è e si attuerà quella parola che la sapienza dice al capitolo 3 dio ha creato l'uomo immortale per l'immortalità a sua natura secondo la sua natura l'ha creato e dentro di noi quindi c'è già l'immortalità per cui la morte non è altro che lo sbocciare per sempre della mia identità del mio essere con dio è il momento dell'abbraccio con il padre è così atteso nel cuore di ogni uomo nel cuore di ogni creatura del mio Grazie a tutti.